Musica Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod Oggi parleremo di una nuova mod aggiornata per 172 Che si chiama Battle Towers Molti di voi già conosceranno il nome, molti di voi conosceranno già la mod Per farvela vedere non ho potuto metterla nel mondo piatto perché non spawnano nel mondo piatto Quindi bisogna generare un mondo nuovo per vedere le torri Allora, in cosa consiste? Già potete vedere forse dalla minimappa Che ci sono diversi mob, diversi ragni, forse un po' troppi E vi farò vedere subito cosa introduce questa mod Allora, lì già potete vedere una struttura introdotta dalla mod Questa è una torre a scendere Questa diciamo va sotto terra Ci stanno anche quelle che partono da basso e sali Allora, ogni piano ci introdurrà alcuni spawner E una chest con un contenuto variabile Giustamente se partite dalla base ci saranno meno contenuti Più scendete o più salite più ci saranno contenuti Allora, più andiamo giù e più dovremo anche spawner e mostri Che nascono visto anche che è più buio E dovremo sempre andare sempre più in basso e trovare i contenuti nuovi nelle chest Ma in fondo a tutto questo cosa troveremo? Troveremo e per sicurezza mi porto qualcosa di potente Vabbè mi porto una di diamante così a random In fondo a tutte queste scalinate e le chest viene di roba Troveremo un cattivone ad aspettarci Eccolo qua, il boss della torre Fa un sacco di danni Se noi ci mettiamo in survival probabilmente ci moriamo anche Appunto E fa un casino della madonna Allora, avete visto quella torre Era un boss Quello ammazzato vi dropperà qualcosa random Non ci sono degli item specifici per quel boss È abbastanza difficile da buttare giù e fa un sacco di danni Quindi andareci bene equipati E niente, quella era la battle tower E' aggiornata E niente, ci vediamo alla prossima puntata E alla prossima volta ragazzi Ciao a tutti